Il mood è quello del jazz appassionato che lascia ampio spazio a una componente giocosa, arrangiando in maniera originale brani celebri accompagnati da testi inediti che restituiscono l'atmosfera di una piccola New Orleans racchiusa nei dodici brani raccolti in Move the Joy, il disco frutto di una collaborazione tra il chitarrista Paolo Palopoli e la cantante Valentina Ranalli è il risultato di un lavoro ormai rodato nel tempo. I due musicisti, meglio conosciuti con il nome di Musica Dea, hanno subito colto la sfida di presentare al pubblico un disco jazz, nonostante il mercato musicale parte europeo non solo sia difficile, come confermano le parole di Valentina Ranalli. Non è principalmente Napoli il problema, è proprio il genere che di solito è un genere un po' più di nicchia o comunque quando parli di appena dici la parola jazz si spaventano tutti quanti e pensano oddio il jazz che noia. Invece noi abbiamo voluto esprimere con questo disco proprio il nostro godimento, proprio il nostro piacere e la nostra gioia nel fare un disco di questo genere. Move the Joy per noi è un vero e proprio figlio, raccontano i due musicisti, ma soprattutto è la possibilità di collaborare con artisti come Walter Paolo, Aldo Zonino e Daniele Gorgone e che nasce da un'esigenza prima di tutto di leggerezza, come spiega Paolo Palopoli. Il messaggio del disco è quello di smuovi la gioia, cioè ogni brano ha qualche piccolo riferimento ai cartoni animati a qualche scherzo, qualche divertente gag musicale, perché a noi piace tenere questo spirito allegro e gioioso.